Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida della settimana 4 che richiede di fare un giro a massacro in motoscafo. Massacro si trova qui, tra Lago Languito e Bruchiere Brumose. Tutto quello che dovete fare è prendere un motoscafo e completare un giro. Nulla di più semplice e veloce. Semplice si fa per dire perché dovete praticamente guidare il motoscafo nei vari cerchi luminosi. Quindi atterrate qui, vi rimostro il luogo, prendete un motoscafo qualsiasi, potete usare anche questo, attenti agli altri giocatori, altrimenti cambiate modalità. Vi posizionate qui, come vedete c'è un conto alla rovescia di 15 secondi. Ora, io sono in modalità creativa perché altrimenti nella classica modalità gli altri giocatori mi uccidono e quindi non posso mostrarvi come fare. Ok, una volta che è partito il conto alla rovescia, qui praticamente ci saranno dei cerchi nei quali voi dovrete passare. Ora, nella modalità creativa, ecco sì, ok, ci sono, pensavo di no. Quindi dovete completare un giro, quindi entrate in tutti i cerchi. Ora, non è richiesto un tempo, quindi potete prendervela con comodo, senza problemi. Vi ricordo che la sfida in questione sarà disponibile dalla prossima settimana. Non è ancora attiva, quindi anche se andate qui e ci sono i cerchi e completate un giro, non potete ottenere la sfida, quindi non potete ottenere i punti esperienza. Ora, io sono una ciofega, una vera schiappa con il motoscafo, però comunque avete capito che cosa dovete fare. Ho reso comunque l'idea. Una volta che avete completato un giro completo, avete appunto portato a termine la sfida e riceverete di conseguenza i punti esperienza. Ora, non è una gara molto lunga, però ripeto, visto che ci sono altri giocatori a rompere le scatole nelle altre modalità, io consiglio di farla in modalità creativa. Non dovrebbero esserci problemi, quindi in modalità creativa, atterrate qui, prendete un motoscafo e fate un giro completo per completare la sfida.